buongiorno avete comprato il quotidiano di oggi io sì e allora siete pronti ad iniziare insieme a me una nuova storia da il quotidiano per la storia di oggi ci serviranno una matita un lapis un pennarello le forbici e la striscia ricavata da un foglio di giornale questo lo mettiamo via circa un terzo dell'altezza ma fate voi come vi piace siamo pronti per iniziare la nostra storia che si intitola se sei solo in una stanza se sei solo in una stanza e ti mancano gli amici e ti manca quella danza del sorriso dei felici e ti picchia lì sul cuore il martello della noia perché troppe sono le ore che hai passato senza gioia e tristezza ti confonde nel sapere che sei solo e ti vedi tra le onde mentre gli altri sono in volo prendi forbici e matita lascia correre il pensiero non guardare alla salita non sentirti prigioniero nelle mani hai uno strumento che ha più forte del dolore che fa a gara con il vento nel combatter con le ore tra le mani hai la certezza che qualcosa prende vita un maniero una fortezza da forgiare con le dita e una festa di compagni che si tengono per mano ecco qui dei nuovi amici presto rendili felici grazie a tutti